Le udoteche e padiglioni per l'infanzia con slot machines e giochi a premi. È un fenomeno che riguarda soprattutto anche alcuni spazi per bambini che il Comune di Firenze ha affidato a gestori privati. Ad interrogarsi sul valore educativo di questi giochi d'azzardo e miniatura sono soprattutto i genitori. Uno di questi spazi è Mondo Bimbo, al parterre, in zona Ponte Rosso. Sentiamo qua che cosa pensano di questi giochi. Io in questo posto, che è un parco divertimenti, non l'accetto. Cioè, per me non dovrebbero stare. Che non va bene, perché dopo si abitua via via e da grande si rovina. Non è giusto, bisognerebbe delle palle, insomma, devono far entrare questi bambini. Può sviluppare delle dipendenze il gioco, quindi insomma va un po' visto con calma di cosa si tratta e che giochi sono. Il gioco d'azzardo quando è giocato i bambini piccoli, perché poi da grande ci lasciano anche lo stipendio e si rovinano la famiglia. Bisognerebbe eliminarli queste macchine.